se è particolarmente interessato a questo aspetto dei giovani, perché il professor Mares in questo momento occupa una posizione molto delicata che è il presidente del corso di area didattica, se quindi c'è la responsabilità di diversi corsi di studio, sia delle scienze naturali che delle scienze ambientali e quindi sicuramente si farà promotore di trasferire tutto questo materiale ai nostri studenti che sicuramente troveranno grande agevolazione. Grazie Fausto. Desidero ringraziare il professor Blasi e tutti gli organizzatori di questa manifestazione così importante, tra l'altro gli studenti sono qui presenti, alcuni studenti di monitoraggio sono presenti, per cui penso che abbiano avuto modo di apprendere tantissimi spunti culturali, scientifici e puntuali. Grazie quindi di questo invito e di questa opportunità di portare alcuni dati del nostro laboratorio. È emerso chiaramente dai colleghi che mi hanno preceduto la necessità di un approccio multidisciplinare nell'affrontare queste tematiche così complesse che riguardano aspetti socio-economici, aspetti di gestione a livello di un sistema così complesso come sistema urbano e quindi vediamo l'ecologo che contributo può dare nello studio di queste problematiche legate alla realizzazione di una città vivibile, di un miglioramento della qualità ambientale, alla fine per migliorare la salute dell'uomo e il benessere. In questo contesto chi mi ha preceduto ha già accennato all'importanza che oggigiorno viene data ai servizi ecosistemici ed in particolare la comunità europea, l'Europa, ha sottolineato l'esigenza di conoscere e sviluppare ricerche per caratterizzare meglio i processi di funzionamento degli ecosistemi naturali perché soltanto un ecosistema in salute, come tutti noi quando siamo in salute riusciamo a produrre meglio, un ecosistema che funziona bene riesce a produrre i beni e i servizi necessari per l'umanità e alla base del funzionamento c'è la biodiversità naturalmente che garantisce le principali funzioni che si manifestano, che si svolgono a livello della complessità ecosistemica e in questo contesto naturalmente i cambiamenti globali esercitano un ruolo molto importante tra i quali i cambiamenti climatici a cui è stato fatto riferimento in precedenza. Quindi il capitale naturale all'interno del quale è contenuto naturalmente il capitale culturale e socio-economico della nostra biosfera non fornisce direttamente i servizi ecosistemici per il benessere dell'uomo ma li fornisce attraverso le complesse interazioni che si realizzano di volta in volta e quindi di conseguenza occorre approfondire queste interazioni per poterne poi sviluppare delle linee guida di gestione e di miglioramento e di conservazione. Per cui le infrastrutture verdi a cui si è fatto riferimento svolgono un ruolo estremamente importante e questo è definito anche dall'azione 6 della strategia 2020 sulla biodiversità della comunità europea e per quanto mi riguarda io cercherò di andare a portare qualche dato, qualche risultato relativo alle ricerche che abbiamo condotto all'interno di un progetto europeo nel settimo programma quadro e ricerche che stiamo portando avanti attualmente. È noto come la popolazione urbana sia cresciuta negli ultimi decenni in maniera rilevante rispetto al decremento della popolazione rurale. In Europa oggi ci sono dei paesi che hanno il 50% della popolazione in aree urbane ma anche delle nazioni che arrivano fino al 90% della popolazione in agglomerati urbani e naturalmente in questo contesto tra i cambiamenti globali i cambiamenti climatici e i cambiamenti legati all'inquinamento atmosferico rivestono un ruolo estremamente importante. Gli effetti degli inquinanti sul clima come gas serra e gli effetti sul funzionamento degli ecosistemi quindi sullo stato di salute degli ecosistemi e sulla salute umana sono ben noti e richiedono ulteriori approfondimenti. Devo dire che questo aspetto legato alla salute dell'uomo oggigiorno è estremamente dibattuto a livello internazionale e richiede specialmente all'interno dell'ecosistema urbano richiede questo approccio multidisciplinare che ancora non è del tutto consolidato. Un piccolo accenno c'era il nostro prorettore Vicario che ha accennato alla complessità di realizzare delle relazioni nel mondo accademico perché in realtà alcune norme relative alla valutazione della produzione scientifica dei docenti a volte non facilitano l'interazione tra settori scientifico disciplinari diversi e l'interazione con gli stakeholder quindi con i comuni, con le autorità amministrative e anche con la citizen science perché poi non consentono delle pubblicazioni qualificate rigorose su riviste internazionali che hanno un impact factor, che hanno un numero di citazioni e quindi di conseguenza a volte si è in qualche modo limitati nell'ampliare e devo dire che il Horizon 2020 apre molto la strada verso l'interazione con le piccole e medie imprese, con gli stakeholder e con la citizen science. Comunque scusatemi questa piccola parentesi ma la ritenevo necessaria. Quindi il sistema urbano che può essere letto a diversa scala, si è parlato dell'isola di calore, in realtà si parla a livello globale di un momento di temperatura di 0,5 gradi però sappiamo perfettamente che l'isola di calore urbana oggigiorno si misurano anche tra le aree rurali e il centro città valori diversi di 3-4 gradi. Quindi cambiamenti di temperatura oggigiorno sono osservabili all'interno del sistema urbano fondamentalmente in relazione al cambiamento di uso del suolo e quindi la cementificazione determina alterazioni dei cicli biogeochimici, l'isola di calore, un impatto sulla biodiversità e un'alterazione degli aspetti idrogeologici. All'interno delle città la popolazione è esposta ai principali inquinanti. Qui abbiamo le soglie standard di qualità della comunità europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, faccio riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che quasi il 100% della popolazione europea è esposta a concentrazioni superiori alle soglie definite per la salute per quanto riguarda l'ozono, per quanto riguarda il particolato e quindi vediamo adesso se le infrastrutture verdi di cui abbiamo tanto parlato fino ad ora possono dare un contributo quantitativamente valutabile sia in termini di mitigazione e quindi miglioramento della qualità dell'aria e sia da un punto di vista anche economico al sistema urbano. Sono tanti i servizi ecosistemici e i benefici che le infrastrutture verdi danno, il verde urbano consente di ottenere. Soffermiamoci sul beneficio climatico e sul beneficio legato alla riduzione degli inquinanti atmosferici. Noi abbiamo portato avanti degli studi sulla città di Roma, in particolare sull'area metropolitana romana. Qui sono rappresentate le diverse tipologie di verde urbano e le principali funzioni che riesce a svolgere. Io mi sono interessato per decenni degli effetti che gli inquinanti esercitano sulla vegetazione naturale coltivata. In questo caso ho rovesciato la lettura dei dati e cerco di valutare, abbiamo cercato di valutare, il beneficio che l'assorbimento degli inquinanti da parte della vegetazione esercita sulla popolazione. Questo schema che può sembrare molto complesso è semplicissimo perché noi possiamo vederlo a differente scala. Il singolo albero, ci sono delle campagne che stimolano la piantumazione di alberi, ma il singolo albero, un boschetto, una foresta e quindi la chenopi funziona in questo modo. Principalmente sono due i processi che ci interessano, la fotosintesi che consente di sottrarre il CO2 dall'ambiente e la traspirazione che immette nell'aria vapor d'acqua continuamente. Questi sono i processi che permettono alle piante di vivere ma che naturalmente influenzano la vita e in particolare nei sistemi urbani, se noi vediamo qui una scena da telerilevamento, è possibile osservare l'area metropolitana romana con le principali infrastrutture verdi naturali o quelle storiche a cui si è fatto cenno, alcuni relatori hanno sottolineato l'importanza del verde storico all'interno delle città italiane e qui abbiamo Villa Ada, Villa Borghese, Villa Panfili, Villa Torlonia. Noi abbiamo fatto uno studio che ci ha permesso di osservare all'interno di foreste urbane per urbane, foreste a Leccio, mi dispiace Enrico, ma il Leccio comunque ha bisogno fare delle valutazioni costo-beneficio e poi anche i modelli di emissione dei VOC ad oggi sono ancora un po' problematici, tu lo sai meglio di me, quindi di conseguenza è un ambito abbastanza... quindi di conseguenza qui possiamo vedere la temperatura nel 2013 e nel 2014 da giugno a settembre misurata sulla chioma di Leccio direttamente da strumentazione portatile nell'area urbana, vedete, la curva rossa e nell'area invece di Castelporziano, all'interno della tenuta di Castelporziano, ci sono anche 4 gradi di differenza. Il 2013 è stato un anno particolarmente caldo, come il 2003. Ora, se andiamo a vedere gli scambi gassosi, l'emissione di vapore d'acqua, possiamo vedere che nel periodo più caldo, ad agosto-settembre, la lecceta urbana di Villa Ada emette una maggiore quantità di acqua, quindi traspira di più. Questo lo otteniamo attraverso la misura della conduttanza stomatica che è qui riportata. Questo per quale motivo? Sia perché si sta valutando che nelle aree urbane c'è una maggiore quantità di precipitazioni nel periodo estivo, ma anche perché c'è un sistema di gestione, l'irrigazione, da parte degli uffici preposti, che consente alla pianta di sopportare il periodo di eredità estiva tipico del clima mediterraneo e quindi il dato funzionale di miglioramento del microclima in questo contesto. La stessa scena qualificata da un punto di vista di classificazione delle principali tipologie di uso del suolo, si vede la zona cementificata, il raccordo anulare, il fiume Tevere, la tenuta presidenziale di Castelpolsiano. All'interno di questo territorio noi abbiamo valutato la capacità delle foreste urbane e per urbane di assorbire questi inquinanti. quindi ci siamo avvalsi dei dati ottenuti anche dalle centraline di monitoraggio della qualità dell'area e abbiamo spazializzato questi dati per l'area metropolitana romana ottenendo la concentrazione di ozono per un determinato anno e applicando dei modelli abbiamo stimato l'assorbimento di ozono da parte della vegetazione forestale presente su questo territorio. Ciò che è interessante per ricollegarlo all'importanza della biodiversità abbiamo sviluppato degli scenari come se l'intera vegetazione a verde di Roma, professor Brugnoli, fosse tutta costituita da leccio e quindi latifoglie sempreverdi oppure tutta costituita da querce decidue, da specie decidue oppure da conifere e abbiamo visto come la presenza di specie differenti in anni diversi 2003-2004 abbia consentito di stabilizzare il servizio ecosistemico di assorbimento di ozono, di cattura di questo inquinante. Qui sull'asse delle ordinate è riportata la quantità in tonnellate di ozono assorbita dalla vegetazione rispetto alla variabilità interannuale che c'è tra i due anni nel caso in cui la vegetazione fosse tutta costituita da lecceta oppure da cerro oppure da pinus pinea. Quindi abbiamo stimato la capacità di assorbimento di questo inquinante in grammi metro quadro delle diverse fisionomie vegetazionali dall'arbusto, il bosco di leccio, il bosco di pino e questo studio è stato condotto al fine anche di stimare il miglioramento della qualità dell'aria e gli effetti sulla salute e assieme a dei colleghi epidemiologi abbiamo valutato come la riduzione delle ospedalizzazioni, dei ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie e vedete che per quanto riguarda l'ozono che è un inquinante tipicamente estivo c'è un aumento dei ricoveri nell'area metropolitana romana nel periodo luglio settembre rispetto ad aprile giugno. Si potrebbe parlare esclusivamente di questo per mezz'ora, scusatemi ma il tempo non me lo consente, il flash è velocissimo. Questo studio è stato fatto anche sul particolato. Per il particolato che non penetra all'interno delle foglie ma si adsorbe sulla superficie è indispensabile avere questo indice, l'NDVI che è stato stimato da noi attraverso dati satellitari e attraverso questi studi abbiamo stimato anche la quantità di particolato che le diverse tipologie vegetali in grammi metro quadro di foglia adsorbono dall'atmosfera. Questa rimozione naturalmente ha consentito di stimare anche la riduzione dei ricoveri per malattie respiratorie attribuibili al particolato. Possiamo vedere che in questo caso la riduzione è maggiore nel periodo invernale rispetto al periodo estivo perché il PM è un inquinante tipicamente del periodo estivo. Abbiamo cercato anche di monetizzare questo servizio ecosistemico operato dal verde urbano e sulla base di dati condotti su 13 città italiane tra le quali anche Roma da un gruppo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità abbiamo stimato che sia un beneficio annuale di circa 2 milioni di dollari che se letti esclusivamente come esternalità questo dato è riportato da un autore americano Novak 6.752 tonnellate dollari per tonnellata rimossa ammonta circa 3 milioni di dollari. Quindi abbastanza simili queste quantità. Valori che arrivano addirittura a 36 milioni di dollari per quanto riguarda il particolato. Quindi io ritengo che gli amministratori dovrebbero conoscere anche la funzione non soltanto di rimozione della CO2 che è un gas serra importantissimo e quindi rientra un po' in questi problemi internazionali ma anche i benefici che si possono avere per la salute dell'uomo. Ultimo flash velocissimo con il professor Blasi abbiamo dato uno studio sulle città metropolitane a livello nazionale e abbiamo anche in questo caso stimato la capacità di rimozione dell'ozono e del particolato da queste aree metropolitane a livello nazionale. Vorrei concludere con un messaggio molto semplice e cioè l'importanza di conoscere i servizi ecosistemici che il verde produce all'interno dei sistemi urbani queste conoscenze devono essere messe a sistema con ricerche interdisciplinari al fine di poter comprendere in maniera esaustiva i benefici che il verde urbano può dare al miglioramento della salute del benessere dell'uomo e le infrastrutture verdi e la biodiversità all'interno delle aree urbane gioca un ruolo importantissimo per consentire di stilare delle linee guida per la realizzazione di piani di studio che possano aiutare gli stakeholders e gli amministratori nella gestione di questa complessa realtà paesaggistica dei sistemi urbani. Grazie. Grazie Fausto, sono 30 secondi mentre Marco si approva del computer. Ti ringrazio perché con te abbiamo fatto un altro passo molto significativo nel senso che la ricerca oramai non solo conosce bene i processi eccetera però sta lavorando sulla grande tematica dell'accounting ambientale che è uno dei punti fondamentali ossia se questo e i PES e il pagamento dei servizi ecosistemi ci sono i due punti che da una parte dovranno garantire specialmente i piccoli comuni perché noi quando parliamo di Roma però poi nel nostro territorio nazionale abbiamo tanti piccoli comuni che si devono vendere e così entro con Marco perché potrebbe essere il prorettore vicario del Morise è un ecologo forestale, un pianificatore forestale quindi è la persona al posto giusto. Noi abbiamo tanti piccoli comuni che ancora vivono del proventi del taglio dei boschi e questo è una cosa che ci deve stare perché stiamo parlando comunque di energie rinnovabili però con le due dute cautele nell'ambito della complessità come dicevamo tante volte quindi ecco a te, anche a te ti invito i 5 minuti però ringrazio Manese che non mi ha costretto a... Grazie Carlo, grazie a tutti quanti per l'opportunità di portare anche il punto di vista della comunità scientifica forestale. Io sono sì il prorettore vicario del Morise ma sono anche il nuovo presidente della società italiana di silvicoltura ed ecologia forestale. Da questo punto di vista presento anche il lavoro che il gruppo di lavoro della Sisef sul verde urbano da anni sta conducendo nelle diverse unità operative che ci caratterizzano in giro per l'Italia quindi ringrazio anche i colleghi che hanno dato questo loro contributo. Abbiamo una serie di progetti nazionali e internazionali in ambito PRIN, FIRB, settimo programma quadro, Horizon 2020 e COST che stiamo portando avanti ma questo mondo forestale è anche quello che lavora poi come diceva il professor Blasi nell'ambito operativo sono decenni che gli agronomi e i forestali hanno un'interfaccia diretta con le amministrazioni anche sulle problematiche del verde urbano. Da questo punto di vista mi preme anche ricordare è stato sottolineato proprio dal professor Blasi all'inizio l'importanza della tematica agricoltura qui oggi non abbiamo aperto il rapporto, la problematica del rapporto città-campagna che forse è quello che sottende anche all'importanza dell'agricoltura nelle aree urbane e periurbane abbiamo visto che nella classificazione Istat non c'era l'area agricola in quanto tale ma l'orto urbano e questo interessantissimo sviluppo che sta avendo anche l'Istituto Nazionale di Statistica credo dovrà contemplare anche qual è il rapporto che storicamente da rinascimento in poi noi siamo stati modello per il resto del mondo nella pianificazione dei rapporti tra cittadini e ambito rurale. Mi concentrerò e cercherò di evitare anche sovrapposizioni con quanto è già stato detto su qualche specificità della ricerca forestale che riguarda parchi e boschi urbani, aree verdi di piccole e grandi dimensioni, piantagioni, stradali e giardini, giardini che possono essere anche privati non solo del verde urbano pubblico e questo è stato detto nell'ambito di questa sfida importantissima che è la continua espansione delle aree urbane e ormai siamo al 50% della popolazione mondiale che vive in città. Si è parlato di consumo di suolo, qualche altro dato che volevo sottolineare rispetto alla specificità di questa forma di consumo che noi viviamo è che il nostro paese vede continuamente quella schizofrenia a cui accennava il professor Blasi all'inizio, l'abbandono da una parte di tanti spazi rurali, anche forestali, non soltanto seminativi, a cui corrisponde una crescita continua, anche non necessaria, delle aree artificializzate che non vuol dire soltanto aree urbane ma sono aree che hanno una forte influenza di infrastruttura grigia che si collegano al verde in qualche modo perché noi abbiamo uno spolo urbano consistente nonostante un saldo demografico negativo in alcune realtà che magari sono proprio quelle delle regioni più piccole fatte dai tanti campanili del nostro paese. Siamo cresciuti del 7% come popolazione italiana con una superficie urbanizzata che è cresciuta del 30%. Questo è un dato che dobbiamo sempre cercare di ricordare relativamente agli ultimi 20 anni. Però un'altra cosa che dobbiamo pensare è che la maniera con cui abbiamo costruito o continuiamo a lavorare nel territorio di fatto crea quella che è una matrice inversa della rete ecologica. L'esempio che il professor Blasit portava all'inizio, il ponte evitato a Tormarancia per le specie esotiche, aliene e invasive che avrebbero potuto o potrebbero invadere per l'appunto ambiti ancora abbastanza identitari dal punto di vista naturalistico avviene dappertutto nel nostro territorio, non soltanto con la crescita della parte residenziale ma con tutte quelle infrastrutture commerciali e infrastrutturali che sono delle vere e proprie reti per far espandere modalità diverse e specie diverse. Sappiamo che da questo punto di vista dobbiamo anche imparare a qualificare forse le definizioni oggi forse se ne è parlato poco ed emerge dall'interessantissima relazione della dottoressa Ferrara le definizioni sono importanti perché se dobbiamo cominciare a pianificare come ci viene chiesto dalla legge il verde ogni ambito avrà la sua necessaria particolarità e peculiarità. Ora certo è la prima cosa che abbiamo già sentito su questo non mi soffermo certo è che i servizi ecosistemici subiscono fortemente l'incidenza della attività dell'uomo l'antropocene di cui accennava Enrico Brugnoli e certo è che noi stiamo vedendo due situazioni esattamente al contrario come ha detto Fausto Manes la vegetazione assorbe, la cementificazione emette e fa aumentare ancora di più gas climalteranti e CO2 innanzitutto e per prima. Su questo però, tematica dei servizi ecosistemici cui abbiamo già accennato mi permetto di dire che forse dobbiamo, è l'unica aggiunta che faccio anche aumentare la nostra capacità di sensibilizzazione verso il grande pubblico e verso l'opinione pubblica sui valori non soltanto monetari ma anche sui valori in sé dei servizi ecosistemici così come derivano, ci vengono forniti dagli ecosistemi. Allora forse è ora di una vera e propria moratoria che bisogna in qualche maniera, speccato che il consigliere sia andato via perché incentivavo quello che diceva il professor Blasi dobbiamo fermare questa situazione di consumo crescente dobbiamo assolutamente trovare a promuovere rigenerazione e riqualificazione e basta cose nuove, è assolutamente fondamentale questo perché? Perché i costi sociali come vedrete, vedremo dopo Parigi sono altamente significativi. Come possiamo contribuire? Noi da decenni ci occupiamo per esempio delle attività inventariali e di censimento delle condizioni del verde urbano sia come quantificazione e misurazione della loro qualità le specie, le strutture, le quantità ma anche delle condizioni fitosanitarie e allora pensiamo a quella serie di modalità GIS ormai operative anche sul piano professionale che però hanno visto dietro una notevole attivazione di ricerca per coniugare misurazione e georeferenziazione che è un punto qualificante come è stato detto per pianificare perché altrimenti facciamo un approccio pittorico mi è piaciuto molto che lascia il tempo che trova rispetto alle scelte di pianificazione e ai processi decisionali. Inventare i diari verdi che quindi devono sottolineo questo devono avere dietro un background e una consistenza scientifica importantissima perché sono le uniche basi che ci consentono poi anche di fare quelle azioni che, e questa per esempio è una specificità importante vanno nella direzione della sicurezza della salvaguardia dobbiamo salvaguardare efficienza funzionale dei sistemi conservazione soprattutto delle emergenze importanti che abbiamo ma anche limitazione dei rischi quindi messa a punto dei problemi legati alla sicurezza parlando in questo caso specifico della componente arborea e su questo anche i miei colleghi arboricoltori avrebbero moltissimo da raccontare hanno moltissimo da raccontare consistenza arborea del patrimonio verde che è negli ambiti urbani nei paesaggi urbani da questo punto di vista mi viene in mente che ci sono esperienze anche recenti di dottorati in giro per l'Italia o anche la Sapienza sta avviando un corso interdisciplinare fortemente interateneo tra agraria e architettura proprio qua a Roma in cui questa componente sarà anche fortemente importante inventari che nel nostro caso specifico vedono anche assieme alla georeferenziazione la capacità di differenziare quelli che sono gli individui da quelli che sono gli insiemi allora un conto sarà inventariare, cartografare boschi e boschetti quindi boschi urbani boschetti e nuove piantagioni altro conto sarà ed è, deve essere la maniera di trattare filari, alberi isolati specificità emergenti come possono essere gli alberi monumentali e da questo punto di vista abbiamo una serie di esperienze utili non soltanto nelle grandi città come è stato fatto a Firenze, Milano, Roma ma anche nei piccoli centri se provate a guardare soltanto questa modalità di racconto di quello che sono gli ambiti di pertinenza del verde urbano noi in genere abbiamo in quei 116 comuni di cui si è parlato i centri storici abbiamo gli agglomerati urbani continui che sono quei semicentri degli anni del boom economico dopo la seconda guerra mondiale abbiamo quegli agglomerati discontinui e Roma ha tutte le modalità e le casistiche possibili ma poi abbiamo in tante città questo è stato già detto aree rurali che sono fortemente compenetrate noi abbiamo Appia Antica e Parco di Veio che entrano dentro non soltanto come emergenze naturalistiche ma come aree agricole e produttive che possono esserlo e quelli non sono ortubani quella deve essere agricoltura con il suo valore credo che questo vada pensato ma anche dal punto di vista della definizione di ciò che è verde urbano in questi ambiti le scelte devono poi essere diverse dal punto di vista del processo decisionale per non parlare come è stato detto dell'emergenza tipicamente italiana della peculiarità dei giardini storici non dico oltre ma su cui siamo chiamati a tantissime azioni anche differenti di conservazione di quello che c'è come valore assolutamente anche di tipo culturale e non soltanto naturalistico questo rientra tutto in quella capacità di inventariare georiferire, censire e misurare perché è una parola della quantificazione molto importante i nostri processi e allora cos'è che per esempio entrando un po' più nella specificità può anche essere utile non dobbiamo dimenticare che ormai a livello internazionale è emerso in maniera chiarissima in una serie di progetti europei che non è soltanto la diversificazione compositiva ma è anche quella strutturale che fa aumentare la funzionalità ma addirittura la percezione della funzionalità dei soprassuoli forestali o arborei nelle città a livello anche di benessere dai singoli cittadini allora riconosciamo le specie misuriamole teniamole sotto controllo anche nella loro capacità auxometrica di svilupparsi perché questo sappiamo proprio in termini dimensionali più grandi sono le piante maggiori potranno essere i rischi in alcune situazioni da tenere sotto controllo ma migliore è anche la percezione da parte dell'opinione pubblica di chi fruisce immediatamente del servizio e questo può avvenire in maniera differenziata per quegli ambiti che dicevo che possono essere le aiole o i filari o i frangiventi nelle periferie o i lungoteveri i platani nostri o i giardini storici e i parchi urbani intesi come urban forest come foreste urbane dal punto di vista invece dei servizi ecosistemici una carrellata ci racconta abbastanza rapidamente come queste situazioni si collegano poi con ciò che è fuori dalla città con tutto quell'interfaccia che in tantissime situazioni noi abbiamo messo a confronto per esempio una zona l'intero Molise con la provincia di Roma per alcune situazioni specifiche legate agli alberi fuori foresta e dentro gli alberi fuori foresta cioè tutti gli alberi che non sono bosco emerge la peculiarità del verde urbano prepotentemente tanto è vero che a livello mondiale si parla per molti servizi ecosistemici ora di mettere sotto controllo gli alberi fuori foresta perché? proprio per questo perché abbiamo abbandono degli spazi agricoli nei paesi sviluppati fortissima pressione sugli spazi agricoli e sugli spazi forestali nei paesi in via di sviluppo ma il fenomeno unico del nuovo urbanesimo è comune a entrambe le realtà economiche noi stiamo vedendo un fenomeno nuovo di neururalità su cui tanti sociologi storici contemporanei stanno lavorando che vedono per esempio torno di nuovo l'accendo dell'agricoltura la problematica non solo degli orti urbani ma pensate alle fattorie sociali le fattorie sociali con cui quest'anno abbiamo fatto una legge è uscita una legge profetica credo come tante delle leggi che fa il nostro paese speriamo che poi abbia seguito ma cosa caratterizzano? Caratterizzano soprattutto ambiti agricoli aziendali per i urbani e questi con un forte ruolo di interfaccia con la popolazione cittadina di purificazione dell'aria filtrazione di inquinanti PM ozono e altro abbiamo già parlato quindi non mi soffermo ulteriormente forse invece può essere utile rispetto ai servizi di regolazione pensare anche che siamo abbastanza avanti a livello globale rispetto alla capacità di trovare segnali modalità nuove di indicatori di cosa della sensibilità delle specie e quindi di monitoraggio della qualità a metalli pesanti macroelementi radionuclidi e composti organici utilizzando anche il legno utilizzando quella incredibile banca dati che sono gli anelli di accrescimento legnoso e quindi la dendroecologia e la dendrocronologia e noi abbiamo una serie di progetti in atto su questo che ci consentono da un lato di datare l'inizio di alcuni fenomeni di cui altrimenti possiamo avere poca coscienza e dall'altro tipologia e disposizione all'inquinamento e distribuzione nello spazio andando a inseguire tramite la dendrochimica quello che è successo negli anelli legnosi e di questo abbiamo alcune applicazioni per esempio negli inceneritori vicini alle città o nelle acciaierie abbiamo alcuni progetti fatti a Terni vicino a Iserni a Venafro dove c'è una forte conurbazione industriale e a Taranto non soltanto utilizzando gli anelli di accrescimento ma anche foglie licheni e corteccia e come sappiamo la bioindicazione questi sono dati acquisiti anche se la ricerca sta crescendo progressivamente anche in questo campo per il biomanitoraggio è significativa proprio per verificare lo stato di salute e di efficienza funzionale del verde urbano di isole di calore è stato detto ci sono delle esperienze è stato accennato molto concrete vedete l'esempio di Milano che mi ha fornito il collega Parisi il gruppo del lavoro del professor Sanesi in cui sono state misurate situazioni di riduzione dei picchi di temperatura fino a 3,8 gradi centigradi Roma se avessimo la stessa esperienza potremmo verificare che la cosa può andare ancora più alta in alcune situazioni congiunture estive accennavo all'inizio al tema delle specie esotiche effettivamente su questo stiamo facendo un'indagine a livello nazionale utilizzando l'inventario dell'uso delle terre l'inventario dell'uso delle terre realizzato dal Ministero dell'Ambiente a complemento dell'inventario forestale nazionale che sapete ha riguardato i boschi propriamente detti ma stiamo cercando di vedere tutto ciò che è arboreo fuori dai boschi propriamente detti noi questo lo ripeto perché non si sa mai che qualcuno non se ne sia ancora reso conto siamo ormai un paese più forestale di Germania Francia non di Svezia Finlandia Spagna ma dei paesi più grandi perché abbiamo quasi 12 milioni di ettari di bosco quindi abbiamo una grande cifra ma abbiamo tantissimo patrimonio arboreo anche fuori dalle foreste e da questo punto di vista dobbiamo stare attenti perché non siamo esenti da fenomeni critici tipo quelli del disboscamento deforestation perché noi perdiamo e questo è un dato che si conosce poco 7 mila ettari di bosco all'anno acquistiamo 35 mila ettari di bosco all'anno negli ultimi 15 anni ma ne perdiamo 7 mila e badate bene che questi 7 mila sono quei casi specifici di cui si parlava prima le sugherete e chi se le mangia l'urban sprawl o le infrastrutture perdiamo boschi ripariali e chi se le mangia l'artificializzazione e cosa conquistiamo invece grandi spazi alla faggeta grandi spazi ad alcuni querceti a orno streti al limite superiore del bosco nelle alpi lì dove c'è la diminuzione del carico zootecnico ma questi sono fenomeni che sono tutti correlati in maniera assolutamente evidente su biodiversità possiamo aggiungere un'altra piccola cosa e mi avvio la conclusione che è quella della relazione è stato anche detto con il benessere psicofisico anche qui come la componente strutturale la componente dell'aumento della biodiversità ha una forte influenza sul benessere psicofisico di chi frequenta alcuni ambienti o di chi ha la possibilità di percepirne direttamente nella vita quotidiana e non con visite ad hoc e il senso del lavoro in alto a destra con visite ad hoc e quanto sarebbe addirittura disposto con modalità di utilizzazione dei PES dei Payment for Ecosystem Services la disponibilità a pagare per godere di questo benessere psicofisico anche su questo siamo avanti siamo abbastanza avanti anche sul piano internazionale e mi avvio alla fine perché credo che il nostro paese abbia possibilità di anche di offrire testimonianze significative anche in quegli ambiti dove non sono soltanto la regolazione del microclima o il sequestro e il blocco degli inquinanti la filtrazione i servizi ecosistemici importanti ma pensiamo a quegli ambiti delle megalopoli dove l'acqua è il problema più grosso o l'energia sono il problema più grosso dove il verde urbano ha compiti anche di sussidio primario in termini per esempio energetici e questo è il caso di alcuni progetti che stiamo svolgendo a livello globale per esempio il gruppo del professor Salbitano e il gruppo del professor Semenzato a Padova direi che mi fermo qui vi ringrazio molto Carlo Calfapietra è già stato citato più volte dal CNR perché è il coordinatore di questa cost action in cui un approccio interdisciplinare sarebbe utile anche a livello nazionale perché è assolutamente significativa e sapete che le cost action hanno una grande ricaduta poi operativa queste sono alcune delle ultime pubblicazioni grazie per l'attenzione grazie Marco mentre chiudi e apri quello del collega io ti ringrazio sembrava essenziale che ci fosse la voce di un forestale ecologo molto molto legato alla pianificazione complessa tornerò dopo su alcuni punti adesso passiamo aspetta sì sì dove sei? no io ecco ah tu ce l'hai chiesto adesso prima faccio una presentazione no? prego grazie a tutti